Martedì 29 settembre, buongiorno, sono le 7 del mattino, l'appuntamento è quello consueto con la rassegna stampa, con la lettura dei giornali. Abbiamo aperture sostanzialmente diverse, che vanno dal reddito di cittadinanza, quindi ai temi sia economici che politici, alla tenuta della maggioranza, all'agenda del governo. Abbiamo però anche notizie naturalmente relative all'andamento del Covid in Italia e nel resto del mondo. Sostanzialmente i numeri ieri sono stati in calo nelle ultime 24 ore, però a fronte anche di un numero di tamponi che si è dimezzato. 16 sono state le vittime, è bene sempre ricordare questi che non sono semplicemente dei numeri. Preoccupa naturalmente la situazione nel resto del mondo, ci ricorda la Johns Hopkins University, che ha seguito dall'inizio la pandemia, che è stato superato il numero di 1 milione di vittime in tutto il mondo. Sono numeri davvero impressionanti. Poi ci sono anche vicende internazionali, come la crisi nel Caucaso, nel Nagorno-Karabakh. Ci sono state vittime tra la popolazione civile e tra i militari che si fronteggiano, Armenia e Azerbaijan. Quindi diventa anche uno scontro però più ampio con Turchia e Russia, che si contrappongono ancora una volta. E poi siamo alla vigilia del primo duello televisivo che ci sarà tra Joe Biden e Donald Trump. Ci sarà nella notte, lo seguiremo con molta probabilità, perché sarà un incontro importante. Il primo faccia a faccia televisivo 3-2. Si presentano con Biden in vantaggio secondo i sondaggi e con Donald Trump che invece deve rispondere all'inchiesta del New York Times, secondo il quale non avrebbe pagato le tasse negli ultimi anni. Poi ci sono anche le vicende di cronaca, per tornare da noi in Italia. C'è una svolta nel duplice omicidio di Lecce. Il responsabile sarebbe, ma naturalmente è tutto ancora da verificare, un ragazzo di 21 anni. E allora andiamo a vedere subito, con l'aiuto della prima pagina del Corriere della Sera, tutte queste notizie. Allora il titolo d'apertura, Reddito, Altola, Conte, 5 Stelle, che ieri tra l'altro vi ricordo si sono viste a porte chiuse vicino Roma per fare il punto proprio della situazione, studiare un po' una strategia d'autunno. E allora le 5 Stelle sì ai controlli, ma dalla misura non si torna indietro. Stiamo parlando naturalmente del reddito di cittadinanza. E poi la nota dei parlamentari, continueremo ad assicurare il beneficio a tante famiglie. La fotonotizia, quella della cronaca, arrestato l'ex coinquilino dell'arbitro e della fidanzata, uno studente di 21 anni, accusato di averli uccisi. Poi c'è un altro tema, restiamo sempre sulla prima pagina del Corriere. Azzolina lancia il concorso, tensione col PD. Questo è uno dei temi caldi, appunto, che animano il dibattito interno alla maggioranza. E poi maxi perdite, zero tasse, l'impero fragile di Trump, stanotte, come vi dicevo, il primo duello con John Biden. E poi la Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, la nuova sfida nominata leader dei conservatori europei. Vediamo la Repubblica come apre. Virus, test rapidi a scuola, pronta l'ordinanza del Ministro della Salute per avviare subito i controlli, le quarantenne negli istituti. Farmaci bocciati e promossi, così dopo otto mesi sono cambiati i protocolli di cura per i malati di Covid. E ancora l'altro titolo, come vediamo sul Corriere della Sera, la scuola Azzolina va avanti sul concorso per i precari, nonostante i dubbi del PD. C'è un'intervista al Ministro Amendola. Il blocco Vicegrad può ritardare il recovery. Parliamo di recovery fund, lo sapete, è questa espressione per intendere i finanziamenti che arriveranno dall'Unione Europea. Allora vediamo nel sommario. I fondi minacciati dai veti incrociati. Berlino trovi una mediazione. Più in basso il titolo sul duello televisivo, Trump-Biden, debiti, zero tasse, Trump alle corde, le rivelazioni e il voto USA. E poi la vignetta si riferisce alle vicende che Repubblica sta seguendo con molta attenzione all'interno del Vaticano. Mara Diaga, c'è un'intervista proprio alla svolta del Papa, fermerà gli scandali vaticani. Questa è la prima pagina di Repubblica. Vediamo la stampa, invece, il giornale diretto da Giannini come apre. Sulle recovery, vedete, patto con Merkel, messa, ecco, il piano Speranza. Crescono i casi di contagi in Francia e Spagna. L'Italia spinge per la quarantena dell'Unione Europea. Questa è nell'occhiello la notizia, l'avete capito, naturalmente, relativa al virus. E poi sotto, scuola, scontro tra PD e 5 Stelle sul concorso dei precari, a Solina, si farà. C'è una lettera di Alberto Bombassei, che è stato anche alla guida di Confindustria, e dice lo smart working non è una soluzione, poi ci spiegherà bene nel dettaglio perché. La notizia dello scontro televisivo, Trump-Biden, via al duello, con il commento di Gianni Riott, e poi una lettera di Antonia Arslan, è l'occasione per parlare di Armenia e del conflitto nel Caucaso. Vi segnalo il commento di Marcello Sorge, l'editoriale Conte, lancia due messaggi all'Europa. Vediamo rapidamente il messaggero. Influenza, il vaccino non basta. Parliamo naturalmente del vaccino influenzale, anti-influenzale. Il governo lo cerca in Europa, il rapporto GIMB, in sette regioni niente dosi, nemmeno per i pazienti fragili, Lazio e Puglia ok, male alla Lombardia, procedure più rapide per l'import. E poi la notizia sull'eredito, eccola qui, si cambia, stretta sui furbetti che rifiutano il lavoro, più controlli dei comuni, sgravi a chi assume, i navigator non funzionano, saranno affiancati. Questa è la prima pagina del messaggero. E allora, sono le sette e sei minuti, diamo la linea alla regia, come sempre per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo subito dopo e riprendiamo insieme la lettura dei giornali. Vi aspettiamo. Sette e undici minuti ben ritrovati. Allora, riprendiamo la lettura delle prime pagine dei giornali. Ho preso intanto il sole 24 ore, lo andiamo a leggere insieme. Allora il titolo in alto, Fisco, come cambia la plastic tax. E poi ci ricorda la Confindustria, il giornale vicino naturalmente alla Confindustria, oggi c'è l'Assemblea, il coraggio del futuro. E poi in basso, sgravio al 50% sui contratti stabili, i posti del 100% per chi assume i giovani. Vi segnalo un'intervista alla Presidente Urbano Cairo, che vi ricordo è anche l'editore della nostra televisione, e in questa intervista parla anche del futuro dell'editoria e fa il punto sulla situazione attuale. Avremo modo di vederla poi più tardi. Vediamo il fatto quotidiano, invece, come apre. Il vaccino influenzale salva anche dal Covid. La nuova scoperta del centro Monzino, meno morte e contagi nelle zone a maggiore copertura vaccinale. Per gli over 65, con l'1% di dosi in più, 2.000 vittime in meno. E c'è anche un'intervista, importante naturalmente, perché è al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Nessun ritardo dell'Italia sul recovery. Lo andremo a vedere subito dopo. Vediamo il giornale, intanto, come apre. Centro-destra unito, scudo per Salvini e scontro con i PM. Anche Forza Italia e Fratelli d'Italia saranno a Catania per manifestare contro il processo politico all'eghista. C'è un'intervista a Paolo Mieli, no al Papa straniero dei moderati. E ancora, vediamo, dopo il giornale, libero come apre. Il Covid, il Lazio 3, ma in pericolo la regione di Zingaretti. Il segretario del PD gioca a fare allo statista, ma il record di pazienti in terapia intensiva, 41. Il doppio di ricoverati, 640, della Lombardia. Il manifesto concorso di colpa. Parliamo di scuola, naturalmente. Nuovo scontro tra il PD e 5 Stelle sul concorso per 32.000 precari della scuola, che si terrà dal 22 ottobre. I Dem chiedono il rinvio sotto Natale. L'amministrazione si farà ora, critici tutti i sindacati. Un errore è tenere le prove durante l'emergenza Covid. E poi la notizia sugli Stati Uniti. Il Presidente USA, ignoto al fisco, il New York Times, l'inchiesta pubblicata ieri, Donald è indebitato e zero tasse per dieci anni. Pompeo, il segretario di Stato, oggi è a Roma. Il Papa non lo riceve. Questa è la prima pagina del manifesto. Vediamo il riformista. Pistaggio e torture nelle celle. Il Ministro sapeva. Questa è l'apertura forte che ha deciso Piero Sansonetti. E vediamo ancora la verità come apre. Grandi manovre sull'asse Italia-USA. Renzi vuole fare il segretario Nato. Il bullo accende i ceri perché Biden batta Trump. Spera di incassare mezza promessa di Obama e di far leva sul risarcimento per la mancata nomina di Frattini. Giallorossi tentati di favorirlo per disfarsene appesa la sua incompetenza in materia di difesa. Poi ci ricorda nella fotonotizia rappresentato proprio lui che il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, oggi è a Roma. Il governo nasconde i decreti pro-Pechino. E ancora ci ricorda che il Papa non riceve il cardinale in lotta contro il regime cinese. Questa è la verità. Vediamo ancora avvenire proprio. Che apertura fa? Il giornale è vicino alla conferenza episcopale. I piani d'autunno. Una app e rilancio dei lavori utili per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Pensioni verso quota 102. Si scopre che sono ferme 200.000 domande di cassa integrazione. La fotonotizia si riferisce al conflitto in corso, ripreso dopo che c'era stata una pausa nel 2016 nella regione del Caucaso, nel Nagorno-Karabakh. Lampi di guerra ai confini d'Europa. Poi la notizia sul vaccino. L'andamento, i positivi a quota 50.000 o a 9 su 10 sono asintomatici. E vi segnalo invece che non dà troppo spazio, come invece altri giornali come Repubblica, danno alla vicenda dell'ex Cardinale Beciu, verità e giustizia. E allora, queste erano le prime pagine. Andiamo a vedere gli approfondimenti. Partiamo dalla politica, dal dibattito interno alla maggioranza. Lo sapete, tra i vari temi c'è il reddito di cittadinanza. Allora, il titolo del Corriere della Sera, reddito di cittadinanza. I 5 Stelle stoppano Conte. Serve un confronto. La nota dei deputati sul piano per cambiare la misura di Maio. prioritario, l'incrocio efficace di domanda e offerta. Però qui c'è un'efficace anche sintesi di quelli che sono i nodi, sostanzialmente. Così li definisce. Allora, il sussidio e le critiche. Verso la Dio a quota 100, il superamento dei decreti. Parliamo dei decreti sicurezza. E poi ancora il dilemma sull'uso dei fondi del MES. Vi ricordo, è l'acronimo per Meccanismo Europeo di Stabilità. e poi la divisione delle risorse dell'Unione Europea. Questi sono i nodi sul tappeto che naturalmente si cercherà di sciogliere in qualche modo. Proverà a farlo il Premier Conte, naturalmente. Restiamo sul Corriere della Sera. Ci spostiamo però alla pagina 3 perché c'è un'intervista a Laura Castelli, che è un esponente di rilievo del Movimento 5 Stelle. Allora, il titolo dell'intervista. Per le grandi riforme un tagliando ci vuole, ma non si torna indietro. Ora accelerare sul fisco, avanti sulla strada della riduzione delle tasse. Allora, vediamo un paio di domande che le ha poste Emanuele Buzzi. Allora, Laura Castelli ha preso parte al vertice di governo del Movimento 5 Stelle. Cosa volete fare? Lo sapete, come vi ho detto prima, si sono incontrati alle porte di Roma in un agriturismo, un incontro a porte chiuse per fare il punto proprio della situazione politica. E allora, la Castelli come risponde a questa domanda? Dice, accelerare sulla riforma del fisco proseguendo nell'azione che abbiamo già intrapreso per la riduzione delle tasse. Dobbiamo semplificare il rapporto tra cittadini e imprese state, riducendo anche molti degli addempimenti che grazie alla digitalizzazione stanno diventando superflui. Sul reddito di cittadinanza, le chiede ancora, conta in mente una revisione? Tutte le grandi riforme rispondono a bisogno di un tagliando dal reddito, non si torna indietro, ma è una riforma che va completata. E ancora, parliamo di recovery fund. Il PD mette dei paletti, avrete poca voce in capitolo? Nessuna contrapposizione, stiamo disegnando assieme i prossimi dieci anni. I punti di unione sono di gran lunga superiori a quelli di divergenza. Dentro questo piano industriale ci saranno moltissimi dei temi per cui è nato il Movimento e per i quali i cittadini ci hanno mandato al Governo, come la riconversione green e la fiscalità di vantaggio per favorirla. E poi naturalmente affronta anche altre questioni, ma vi rimando poi a una lettura più completa per chi appunto fosse interessato. Un'altra questione legata ai finanziamenti europei, però è anche il piano messo a punto dal Ministro della Salute Speranza. Allora il titolo, la casa sarà il primo luogo di cura, ecco il piano Speranza per i fondi dell'Unione Europea. E sotto abbiamo, questo ospitato dalla stampa, abbiamo quattro caposaldi, proprio capisaldi di questa riforma, di questo piano messo a punto dal Ministero della Salute. E allora riparti senza pressione, più consulti via internet, assistenza domiciliare, digitalizzazione, poi per la prevenzione, la sfida alle dipendenze, poi l'innovazione, la ricerca con i privati. Questi sono i punti in sintesi del piano messo a punto. E allora continuiamo a parlare di recovery fund, però ci spostiamo sul giornale La Repubblica, andiamo a pagina 8, perché c'è un'intervista al Ministro per gli Affari Europei Amendola, che oggi sarà a Bruxelles per cercare un po' di, come dire, trovare dei punti di incontro con i nostri partner europei. Allora, Tonia Mastroboni lo ha intervistato, e nella prima domanda proprio ricorda che oggi incontra il suo omologo, Michael Roth, e altri esponenti del governo tedesco. Che tempi prevede per il recovery? La prima domanda dice per noi. Gli accordi di luglio vanno implementati subito, si è aperto però uno scontro tra paesi come la Polonia e l'Ungheria, che non vogliono interferenze e condizionalità sullo Stato di diritto. Questi ultimi due fanno parte del gruppo cosiddetto di Visegrad, sono quelli, diciamo, più intransigenti. E i cosiddetti frugali, che spingono, perché lo Stato di diritto si è irrinunciabile per accedere ai fondi. L'Italia ha detto la sua, l'articolo 7, le procedure sullo Stato di diritto sono fondamentali. La Germania, che tra l'altro, vi ricordo, ha la presidenza del semestre, ha un ruolo determinante in questo, sta lavorando ad una mediazione. Al contempo bisogna negoziare con il Parlamento dell'Unione Europea. Purtroppo rischiamo di finire in una strettoia che a lunghi tempi del recovery, la presidenza tedesca deve portare a casa questa mediazione. E allora, l'altra domanda, dice, si rischia dunque il blocco del recovery? Se la discussione continua così, con questi toni e con minacce di Vito, dal mio punto di vista di fuori della logica comunitaria, si potrebbe bloccare tutto. Lavoriamo con la Germania per una via d'uscita. E allora, continuiamo a parlare d'Europa. Ci spostiamo sul fatto, però, perché c'è un'intervista, come vi anticipavo al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, che parla proprio di recovery fund, dice, faremo presto, entro fine anno sarà tutto pronto. Wanda Marra lo ha intervistato e gli ha chiesto, Presidente, a che punto sono i negoziati sul recovery fund? Dice, ci sono tutte le premesse per poter fare presto. Proprio oggi è arrivata una buona notizia, una proposta della Presidenza tedesca per inserire alcune clausole sul rispetto dello Stato di diritto. In altri termini, i soldi non devono andare a chi viola la legalità e la trasparenza. Questa era una delle richieste del Parlamento. Sono fiducioso che il negoziato si concluda presto. I meccanismi del Next Generation hanno bisogno di atti legislativi, retifiche dei Parlamenti nazionali. Speriamo di finire entro l'anno perché le risorse possono essere disponibili nel 2021. Allora, io mi fermo qui con la lettura dei giornali. Sono le 7, quasi 21. Ti restituisco, Paolo, quella manciata di secondi che ti ho rubato ieri. La domanda che ci siamo posti dice, chi possiamo chiedere a Paolo sul tempo, che naturalmente sa tutto. La cosa più banale che mi è venuta, ma che ho vissuto, oggi faceva molto freddo mentre venivo qui. Quindi si sono abbassate le temperature. A te, Paolo. Sì, sì. Buongiorno, Fabio. C'era anche qualche nebbia questa mattina. Questo è un altro punto. Le temperature, sì, l'abbiamo sentita, sono scese molto bruscamente. Allora, qui c'è tutto un discorso sul riscaldamento globale. Allora, perché fa freddo? Attenzione, perché è una strada un po' spinosa. Si rischia di farsi male, di dire delle cose sbagliate. Magari quando avremo più tempo ne parleremo. La giornata di oggi ancora abbastanza fredda. Lo vedremo fra un attimo. Per quello che riguarda il tempo, però il miglioramento rispetto a ieri sicuramente c'è stato. Ancora qualche nuvola al sud, con qualche pioggia, qualche nuvola al nord, ma spesso il cielo è sereno. Né questo favorisce la formazione della nebbia quando il terreno è bagnato. E ieri su molte zone ha piovuto. Allora, giornata di oggi, complessivamente, il grigio di qualche nuvola al nord, al centro, anche nel pomeriggio, quindi non si innesca molto nel pomeriggio. Sul basso terreno, Sicilia, Calabria, Campania, qualche pioggia. In Calabria, forse anche qualche pioggia moderata, il colore che va verso il celeste, se no piogge deboli. Domani, in tutte le 24 ore, ancora abbiamo a che fare con qualche zona verde, un millimetro di pioggia nelle 24 ore, piccole incertezze, ma giornate sostanzialmente stabili. Giovedì c'è qualcosa in più, c'è l'inizio di un cambiamento, perché al centro e al sud si ha a che fare ancora una volta con qualche debole pioggia, quindi in tempo appena un po' grigio, ma sulle zone di nord-ovest vedete c'è qualche pioggia in più, in Liguria, sulle zone alpine, insomma è il segno che da quella porta probabilmente qualche cosa entra. Ecco le temperature di questa mattina, il verde indica temperature inferiori ai 10 gradi, ecco il freddo, io sono sempre molto freddino, non è eccessivo, però sicuramente siamo sotto media, il recupero sulle zone costiere, vedete il giallo, il giallo siamo oltre i 10, è parziale, quindi tendono a salire, a ristabilirsi queste temperature, ma con molta lentezza. I mari oggi hanno un moto ondoso che sui bacini occidentali, il colore questo che va verso il violaceo, sono mari molto mosse, il mare è molto mosse, ha un'altezza dell'onda che può arrivare intorno ai 2 metri e 50, se no l'azzurro mare mosso, un metro e 25 come massimo, il celeste, mari assolutamente tranquilli. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio. A più tardi.